Khodorkovsky è un documentario che racconta la vita e la caduta del magnate che un tempo era il più ricco uomo di Russia. Fin dalla sua presentazione all'ultimo festival di Berlino, il film ha suscitato consensi e polemiche. Pavel, il figlio maggiore di Khodorkovsky, ha presenziato al debutto statunitense della pellicola. L'esperienza di vedere il padre nell'opera è comunque toccante. È stato molto interessante ascoltare le risposte di mio padre sulle domande che riguardano me e la mia famiglia. E questo perché in realtà lui è il più eloquente fra tutti noi. Khodorkovsky era stato arrestato nel 2003 dopo l'arrivo al Kremlino di Vladimir Putin. All'epoca era direttore generale della potentissima azienda petrolifera Yukos, che è stata smantellata a colpi di sanzioni per tasse non pagate, quindi venduta. L'ex alto dirigente sta scontando una pena di 13 anni di carcere duro. Dovrebbe uscire nel 2016, ma se Putin si ripresenta alle elezioni, le cose si complicheranno. Con Putin, che torna al potere, le cose non cambieranno nel suo modo di pensare. E mettere in libertà mio padre non gli converrà. Lo terrà in carcere. Potrebbe esserci un nuovo caso, un quarto caso, come ha mostrato il processo. Le volontà della corte non contano. Nel film c'è anche un'intervista a Khodorkovsky al momento del suo terzo processo a Mosca nel 2010. In questa intervista, l'uomo risponde alle domande del regista Cyril Tusky. Qualora, tornando indietro, cosa avrebbe cambiato nella sua strategia? Il film è una fotografia del giovane capitalismo russo e delle sue difficili contorsioni.